Sì, noi siamo qua anche noi per manifestare, anche se ormai la nostra vita, il destino è segnato. Noi abbiamo lottato finché abbiamo potuto, abbiamo fatto anche cose un po' ecclatanti, come salire sul tetto e altre proteste simili. Noi abbiamo ottenuto qualcosa, tipo soldi dall'azienda e la cassa integrazione dallo Stato, però la forza primaria che volevamo fare, cioè tenere la ESA in Italia, non ci siamo riusciti. Adesso stiamo lottando per vedere se si può reindustrializzare l'aria e non farli speculare anche su questo. Quante persone sono interessate? Noi eravamo, cioè siamo in 140 alla ESA e 78 siamo stati messi in mobilità, quasi la metà, però anche gli altri che sono quasi tutti impiegati, non si sa bene il loro destino perché adesso prendono degli uffici in affitto e poi non si sa quanto tempo vanno avanti. Siccome hanno portato tutto, cioè già c'erano dite nei paesi dell'est, adesso hanno preso anche in Bulgaria e ormai sta andando tutto di là, insomma. Ma voi eravate un'azienda in crisi, nel senso che non c'erano commesse? No, cioè noi siamo una ditta che abbiamo fatto qualche settimana di cassa l'anno scorso, ma roba di tre o quattro settimane, roba da poco. E l'anno scorso a metà anno facevamo anche straordinari. Secondo noi hanno approfittato gli inglesi proprietari di questa crisi per chiudere definitivamente un posto che avevano già in mente di chiudere perché vogliono fare più profitti, cioè ormai si sta spostando tutto all'est e quando di là magari si alzeranno un po' le rivindicazioni via, già hanno aperto anche in Cina e penso che ci stiamo impoverendo tutti da una zona, ci spostiamo all'altra e dove la manodopera costa meno. La nostra azienda è nell'abrianza la più fortunata perché nel 2009 non siamo stati interessati ancora fortunatamente dalla cassa integrazione, anche se c'è da dire che a livello locale sono stati tagliati tutti i contratti a termine, quindi circa 75 persone in meno dall'inizio dell'anno e si è aperta una procedura di mobilità per 30 persone per sfoltire un po' il personale, incentivandoli in qualche maniera all'esodo o alla pensione. Nello stabilimento di Solaro siamo circa 1200 dipendenti tra operai e impiegati e facciamo parte di un gruppo che è una multinazionale svedese che in Italia ha altri stabilimenti dove in totale fino a qualche anno fa si contavano almeno 6.500-7.000 dipendenti grossomodo ma che sono stati sfoltiti comunque sia nell'arco degli anni. Basta pensare allo stabilimento di Firenze che è stato completamente chiuso e quindi si sono persi circa 450-500 posti di lavoro e altre persone nel gruppo per un totale di altre 600 persone che sono state lasciate a casa con una procedura di immobilità. Come mai sono stati effettuati questi tagli? Era l'azienda in crisi oppure come sono stati motivati? Le motivazioni sono quelle dei costi troppo eccessivi rispetto all'andamento del mercato. Quello che c'è sotto è comunque sia la volontà di fare profitti sempre maggiori a danno dell'occupazione perché poi ad esempio i tagli che sono stati interessati, quelli di cui ti parlavo, siglati presso il Ministero della Salute e del Lavoro in realtà poi praticamente hanno fatto aumentare i cicli di lavoro per quelli che sono rimasti quindi hanno comunque garantito all'azienda lo stesso in Troiti e i posti di lavoro, molti posti di lavoro si sono spostati poi negli stabilimenti che sono presenti negli stabilimenti, insomma che sono presenti, adesso non mi viene in mente i posti, comunque nell'est europeo piuttosto che in Cina, non ci sono però in Polonia, est europeo eccetera. Grazie